Ciao a tutti, sono Roxy, in questo video proverò il giocattolo slash prodotto più assurdo sulla terra Sono troppo emozionata Se non siete fan di Star Wars forse non sarete emozionati come lo sono io Ma sono troppo emozionata Allora, oggi aprirò questa scatola e sono emozionatissima perché in questa scatola c'è BB-8 Per chi non lo sapesse BB-8 è il nuovo droide slash robot del nuovo film di Star Wars The Force Awakens Il risveglio della forza È il robottino sferico che si vede nel trailer e ovviamente questo non è il robot del film Ma hanno creato una miniatura di quel robottino e non è solamente un giocattolo Come hanno detto i creatori, questo è un vero e proprio robottino che parla, si muove, fa hologrammi eccetera eccetera Perché i creatori volevano proprio che in ogni casa ci fosse un piccolo droide con cui interagire Io sono veramente super emozionata È un'esperienza di vedere com'è questo mini droide, com'è questo BB-8 E il fatto che si muova, parli e possa essere telecomandato dal telefono Quando ero piccola io, ma neanche ce lo sognavamo un giocattolo così Quindi ora bando le ciance e apriamolo e testiamolo Vi lascio il link di questa cover nella descrizione Ok Tutti insieme Cute A un po' pesa, eh? Usiamo la forza! Yeeey! Ok, allora, questa è la scatola, come vedete questo è BB8, ma quanto è carino! E in pratica si muove grazie a questa sfera che sta sotto che ruota E le due parti sono connesse tramite un magnete! Genialata! Qui ci sono altre informazioni, lo potete controllare dal telefono Queste sono le misure Si ricarica grazie a questo cosetto Lo potete controllare a un raggio di 30 metri All'USB E la batteria, credo, duri un'ora O si ricarica in un'ora Una delle due Ed è stato creato da questa compagnia che si chiama Sphero Poi qua dice tutte le cose che fa E dice che appunto si muove Lo potete telecomandare dal telefono Riconosce la vostra voce Crea ologrammi Lo potete anche mandare in esplorazione per la vostra stanza o dove state E si evolve e si crea la sua personalità Cioè in pratica questo è come un animale domestico Senza dovervi preoccupare di dargli da mangiare Pulire le cacchette e portarlo dal veterinario Cioè alla fine conviene Ok, now C'è la scatola dentro una scatola L'era scatola è fatta benissimo comunque Star Wars TADAAAAN OHO Tutti insieme! CUTE! Vediamo che c'è scritto qua Allora, lo devo attaccare alla corrente Lo devo ricaricare Lo devo montare E devo scaricare l'applicazione per il telefono Quindi ci vediamo fra un po' Quindi abbiamo l'USB Per caricarlo Istruzioni, la parte sotto E la testolina Oh, si è già appiccicata Ok, il mio cellulare E qui è dove si carica in pratica Ok, allora, per caricarlo Lo dobbiamo girare Mettiamo questo qua Ok E l'altro lato Va nell'USB Ora metto la sfera Così credo Oh Si illumina, quindi funziona Oh 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 Uh, ma si muove già Cute Ciao Ok Il lune 21 vediamo quando è carico Ok, siamo sul sito Adesso scarichiamo l'applicazione Ok Ok Si sta scaricando Yes Ok, adesso sono esattamente le 4 e 30 Quindi sono passate 3 ore e 10 minuti Ha smesso di fare le lucine Quindi l'ho staccato E credo sia pronto E adesso proviamo Mi sono spostata qui dove c'è un tavolo un po' più grande Così possiamo vedere cosa succede Quando lo accendiamo Ok Ok Lo stiamo svegliando Uh, drive Drive Guidiamolo Metti BB8 per terra davanti a te Vabbè non è proprio per terra ma va bene Ok, next Cute La luce blu che splascia intorno a BB8 E' la sua aim light Forse per trovare l'equilibrio NEXT Ah, vedi Io posso controllare la luce blu E muoverla a destra a sinistra Per muoverlo Ok Uh Oh mio dio guardate lo posso muovere Aspettate lo stavo muovendo troppo in fretta Oddio che carino non cadere però Non cadere Ok adesso quindi lo giriamo fino a che non ci guarda Uh Next Muovi il joystick per guidare BB8 Prova Uh 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 oh oh Go There Oh my god Oh my god You're so cute Ahahah Vai lì Oh No 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 Ok è più difficile di quanto pensassi C'ho troppo paura per la sua vita C'ho troppo paura per la sua vita Go straight Yes High five Ok adesso proviamo un'altra funzione Quindi possiamo fargli fare delle cose cliccando su questi bottoncini Prima questo Carino dice sì Un'altra volta Ora proviamo questo No 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 E ora proviamo questo Oh 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 Non l'ho capito sto sto coso Mi sa che quello è quando è felice e balla E' l'ultimo pulsantino qui Oh Nooo Oh my gosh where are you going where are you going Oh Oh No BB8 No 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 Not cool Where are you going Ok Quel pulsante lo fa scappare Messaggio Filma E guarda un messaggio In ologramma Comentatissima Quindi Come vedete c'è BB8 che lo proietta davanti a sé In camera non so se lo vedete bene Però c'è tipo un'astronave qua Ora proviamo a registrare un messaggio Uh Vi vedete? Ok Hi Hola Ciao Hi Hola Ciao Oh mio dio sta cosa è troppo fantastica Voi non la potete vedere bene Però si vede il video Sull'ologramma C'è troppo bello Ok Ed ora Lo facciamo parlare Allora se andate sulle impostazioni potete impostare Il riconoscimento vocale Quindi potete parlargli E sullo schermo appunto ci sono delle frasi che gli potete dire E a seconda di quello che gli dite Lui Vi risponderà in una maniera differente Se lo togliete da qua Si muove anche A seconda di quello che gli dite Proviamo Ok BB8 Look around Non mi ha capito Look around Go explore Go to sleep Wake up Run away What do you think? Eccuccino Eccuccino Iccuccino Iucело Eccuccino 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 Che poi non so se lo vedete Ma si illumina Con diversi colori Ok l'ultima opzione è quella della pattuglia Lo potete mandare in giro a esplorare Io però ho un po' paura sul tavolo perché seccate si rompe Adesso vediamo che possiamo fare E guardate quando fa la pattuglia fa anche una mappa di dove sta Mano a mano che lo mandate in pattuglia per la casa per esempio Farà una mappa della casa E poi potrà andare in giro senza andare a sbattere da nessuna parte Fighissimo Ok la conclusione è che questo coso è troppo carino no? Adesso ci gioco un altro pochino e noi ci vediamo alla prossima Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocattolo slash robottino E fatemi sapere se vi piace più BB8 o R2D2 Io faccio un nuovo video ogni domenica e giovedì E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Mettere mi piace, commentare e condividere il video con tutti i vostri amici E noi ci vediamo alla prossima Ciao Grazie per essere rimasti fino alla fine 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 Qui vi lascio altri due video I vostri tweet sono qui sotto Come sempre saluto tutte queste persone E vi mando tantissimi bacini E un abbraccio virtuale Se volete apparire qui sotto ed essere salutati Basta che andate su Twitter e vi mandate un tweet Qui succederà presto qualcosa di fantastico E noi ci vediamo alla prossima Ciao